Passiamo alla seconda sessione, parliamo di patologia infettiva. Luca Salvolini, Ancona, volevo intanto che ti prepari a fare una considerazione. Oggi negli ospedali delle Nazioni Civilizzate la mortalità per infarto miocardico acuto è il 3%, la mortalità per polmonite è l'8-10%. Questo vuol dire che relazioni come queste servono, è importante che poniamo attenzione e energie in queste patologie. Grazie. Grazie signor Moderatore e grazie Lucio Livetti per l'invito accolto con piacere. È difficile concentrare in 20 minuti un argomento vasto, bisogna per forza schematizzare, semplificare un argomento che in realtà è molto complesso, spero di non far inorridire troppo il collega clinico. che ha detto una cosa importante, uno degli articoli ultimi usciti visti sull'argomento dice è ora di considerare la polmonite una emergenza se vogliamo ridurre la mortalità. E quindi dobbiamo affrontarla con una mentalità costruttiva e acculturata. Allora la gestione del paziente con polmonite poggia su tre pilastri, di cui noi siamo senz'altro uno. E di quadri clinico-laboratoristici e di patterns radiologici variano però a seconda del contesto epidemiologico, del microorganismo coinvolto e delle condizioni del paziente. E di questo dobbiamo sempre tenere conto e sono tutte informazioni che noi dobbiamo avere se vogliamo essere utili nel cercare di restringere le ipotesi diagnostiche. Ora noi tutti abbiamo imparato a scuola una classificazione anatoma radiologica classica, polmonite lobare, broncopolmonite, polmonite interstiziale. Certo va conosciuta, però va capito che non corrispondono il più delle volte quasi mai a specifici organismi. Vanno conosciute sapendo che sono piuttosto espressioni di patterns fisiopatologici, di meccanismi fisiopatologici e anatomopatologici diversi, che possono essere più o meno espressioni di diversi patogeni in diversi momenti, in diversi pazienti o in uno stesso paziente in diversi momenti. Quindi diciamo che sconfinano un po' l'uno nell'altro, non sono compartimenti stagni come noi rischiamo di avere imparato. Cominciamo a capire da punto di vista clinico ed epidemiologico che è molto diverso se ci si presenta un paziente che la polmonite l'ha acquisita fuori dall'ospedale rispetto a un paziente che invece la sua polmonite l'ha acquisita per colpa dell'ospedale. Questo cambia non solo la presentazione clinica, ma cambia anche il nostro modo di approcciare la diagnosi. E vedremo nuove categorie di pazienti che stanno venendo fuori, che sono tutti quei pazienti che subiscono trattamenti para ospedalieri, in strutture che non sono ospedali, ma spesso ci si avvicinano. E allora la polmonite acquisita in comunità riguarda i pazienti che non hanno avuto rapporti recenti né con ospedali né con strutture para ospedaliere, case di ricovero nelle due settimane precedenti. Mentre noi possiamo pensare a polmoniti nosocomiali in caso in cui la polmonite non era né presente né in incubazione durante il ricovero ospedaliero. Quindi dobbiamo dargli 48 ore di tempo almeno da ricovero per poter parlare di polmonite nosocomiali, così come per le polmonite associate al ventilatore, almeno 48 ore dopo l'intubazione. Quindi cominciamo a capire che dobbiamo innanzitutto sapere di fronte a quale contesto clinico siamo. E in particolare questa nuova categoria di pazienti, che è sempre più numerosa, va tenuta presente perché quei pazienti che subiscono terapie domiciliari sono ospitati in strutture protette, case di riposo, ricoveri che non sono ospedali ma in cui subiscono trattamenti, terapie che sono le stesse spesso e le condizioni del paziente non sono poi molto diverse dai pazienti ricoverati, ecco bisogna capire che questi pazienti dal punto di vista dei paetogeni coinvolti, dell'estensione, dei meccanismi di infezione, condividono molto più con le infezioni ospedaliere piuttosto che con le polmoniti acquisite in comunità, anche come tasso di mortalità che un po' ci si avvicina. E quindi diciamo che anche i patogeni coinvolti vanno pensati più quelli responsabili delle polmoniti ospedaliere rispetto a quelli responsabili invece delle polmoniti acquisite in comunità. E sono pazienti questi, spesso anziani debilitati, con comorbidità alcolisti e questo dà una modesta immunosuppressione che gioca senz'altro un suo ruolo. In tutto questo il nostro ruolo, in particolare partendo dalle ristorace ma della radiologia generale qual è? Localizzare e definire l'estensione dell'opacità parenchimali nel far diagnosi, identificare segni associati, sospettare, identificare e definire le complicanze o come riscontro occasionale o quando si cercano e monitorare la risposta alla terapia nel follow-up. Ora, il riscontro all'Rx torace di una opacità parenchimale nel contesto clinico appropriato è ancora il gold standard per la diagnosi di polmonite. Nel 50% dei casi se la clinica è positiva, l'Rx è positivo, consideriamo che anche la microbiologia non invasiva può raggiungere un grado di positività in non più del 50% dei casi. Quindi ancora in gran parte, specialmente nelle polmonite acquisite in comunità, ci affidiamo quasi esclusivamente all'Rx torace. Nelle polmonite acquisite in comunità, nell'appropriato contesto clinico, Rx positivo uguale diagnosi. Nelle polmonite ospedaliere il discorso si complica un pochino perché ci sono delle condizioni che possono far pensare a una polmonite ma che in realtà magari polmonite non sono. Cioè non è detto che un infiltrato radiologicamente evidente nei pazienti ricoverati, in particolare magari in terapia intensiva, sia per forza una polmonite. Per cui non basta dire c'è una consolidazione, servono anche altri criteri diagnostici per poter dire che quell'addensamento in quel paziente è sicuramente una polmonite nei pazienti ricoverati. Quindi l'Rx torace è sempre il primo esame per la diagnosi iniziale. Di fronte a un Rx torace negativo, se il sospetto clinico permane forte, oltre a cercare di aiutarsi con un ATC, a volte può bastare ripetere il torace a 48-72 ore, in particolare in pazienti disidratati, immunodepressi o neutropenici, in cui la comparsa di alterazioni radiologicamente evidenti può essere relativamente ritardata. Per cui un buon 7%, quasi 10% dei pazienti con un primo Rx negativo possono avere poi segni invece di positività se l'Rx viene ripetuto dopo pochi giorni o anche a volte dopo qualche ora. Certo, qui se l'Rx è negativo e la clinica è fortemente positiva, ci si comincia a pensare di potersi aiutare con un ATC, non tanto nelle polmoniti acquisite in comunità, in cui spesso la diagnosi è solo radiologica, basta soprattutto nelle polmoniti acquisite in ospedale e spesso anche non basta. Il ruolo dell'ATTAC qual è? La diagnosi, specialmente nei pazienti con polmoniti nosocomiali, non tanto in quelli con polmoniti acquisiti in comunità, il cercare di definire le complicanze e il proporre magari delle diagnosi alternative nei quadri in cui l'Rx è positivo ma la clinica non è pienamente suggestiva, ci può essere qualcosa sotto che magari spiega la clinica e non è una polmonite, serve nel bilancio di gravità per decidere all'esordio quali pazienti acquisiti in comunità con polmonite severa devono essere ospedalizzati e quali possono essere curati a casa, serve a capire dove magari fare un BAL e per guidare altre procedure, il più delle volte però non fa quello che magari noi pensiamo che serva, non ci aiuta nella tipizzazione dell'agente ziologico. Anche l'ATTAC in questo aspetto non è tanto più di aiuto rispetto all'Rx. Senz'altro riesce a definire la diagnosi in alcuni casi in cui l'Rx può essere falsamente negativo e possono arrivare fino ad un quarto dei pazienti in cui c'è una dissociazione clinico-radiologica e l'ATTAC in questo caso aiuta a recuperare una fetta di pazienti nella diagnosi di polmonite. È senz'altro più accurata e sensibile dell'Rx nella definizione della sede, della morfologia, delle caratteristiche, degli addensamenti e questo può aiutarci a fare diagnosi di polmonite e magari a cominciare a definire un agente ziologico piuttosto che un altro nell'appropriato contesto clinico e avendo a disposizione le informazioni cliniche, definendo meglio quali sono i vari pattern di presentazione all'ATC nei pazienti che arrivano etichettati con sospetta polmonite. Certo, l'ATTAC è più precisa e ci aiuta di più così come diventa essenziale nel momento in cui noi specialmente di fronte ad alcuni agenti ziologici dobbiamo andare a definire per esempio la natura di un versamento per capire se è un versamento parapneumonico o un empiema oppure a cercare delle cavitazioni che magari si intravedono all'Rx specialmente in alcuni agenti patogeni. In questo l'ATTAC si impone e in particolare i grossi limiti, l'Rx dorace lo mostra, nelle infezioni ospedaliere e in particolare in quelle infezioni in pazienti in terapia intensiva, ventilati meccanicamente, in cui a volte diventa anche difficile dire se c'è un'infezione o no, tante volte anche con l'ATTAC e in particolare con l'Rx, specie quando il quadro clinico evolve, ci troviamo di fronte a quadri che evolvono in ARDS, diventa veramente difficile e la clinica aiuta fino a un certo punto perché questi pazienti comunque spesso hanno febbre, comunque spesso hanno secrezioni e ci sono addirittura degli articoli dove viene fuori che avere informazioni cliniche riduce l'affidabilità diagnostica del radiologo nell'interpretazione dei radiogrammi addirittura. Per cui, certo, non arriviamo a dire questo, bisogna avere tutte le informazioni cliniche, però diventa molto più difficile fare diagnosi di polmonite, ancor più tipizzare un agente ziologico, nei pazienti ospedalizzati, in cui però diventa decisivo perché la mortalità in questo caso diventa veramente alta e gli unici segni specifici per polmonite sono broncogrammi aerei, cavitazioni, in minor misura, questo si vede bene in TAC, consolidazione antideclivi oppure l'arrestarsi di fronte a una scissura di una consolidazione polmonare. In un paziente in terapia intensiva un infiltrato polmonare, una consolidazione, può essere una polmonite ma può essere anche una miriade di altre cause che vanno tenute presenti e riconosciute tenendo presenti quelli che sono quelle piccole cose che magari guardando un eric storace o guardando un ATAC possono farci orientare di più insieme alla clinica per dire sì polmonite oppure questa polmonite non è. Di fronte a casi del genere è anche difficile descrivere tante volte quello che si vede oltre che interpretarlo, in particolare dire se il paziente può avere una polmonite o no e allora l'ATC aiuta a definire che questa può essere una polmonite e poi magari se l'escreato ci dice come in questo caso che era un emofilus ma ce lo dice l'escreato, non lo possiamo spesso quasi mai, dire noi, un agente eziologico quasi mai può essere identificato precisamente sulla base di esami RX e TC perché uno stesso agente patogeno può dare alterazioni RX diverse in diversi soggetti oppure viceversa agenti patogeni diversi possono dare alterazioni RX identiche cambia a seconda del momento in cui facciamo diagnosi noi tendiamo molto ad anticipare diagnosi le polmoniti lobari non le vediamo quasi più perché arriviamo prima che la polmonite possa diventare lobare l'immunodepressione dei pazienti cambia la presentazione clinica uno stesso agente, pensate all'aspergillo può dare quadri diversi in pazienti diversi con diversi gradi di immunodepressione e alcuni, come per esempio il micoplasma ma anche l'emofilus possono dare quadri diversissimi in diversi pazienti quindi non è possibile quasi mai differenziare l'organismo responsabile sulla base del quadro RX però noi possiamo in un certo senso limitare il campo cioè incrociando quello che è il pattern radiologico RX-TC con le informazioni cliniche con la presentazione noi possiamo restringere il campo cercare di capire soprattutto se questa è una polmonite batterica o non batterica cambia molto la terapia e cercare di, se riusciamo restringere un pochino ulteriormente il campo a seconda di tutte informazioni radiologiche e cliniche che noi dobbiamo cercare di incrociare quindi nelle polmonite acquisite in comunità sapere che nei pazienti sani c'è un certo tipo di frequenza degli organismi come agenti eziologici di una polmonite e invece nei pazienti con comorbidità, anziani, malattie croniche e alcolisti cambia un pochino quello che è l'ordine di frequenza degli agenti eziologici che rimangono però comunque sconosciuti anche dopo tutti i test clinici e microbiologici quasi nella metà dei casi nelle polmoniti nosocomiali cambia un pochino a seconda del momento di insorgenza nel senso che se è subito dopo il ricovero sono coinvolte specie responsabili anche di infezioni in comunità mano a mano che ci spostiamo più là nel ricovero e nella severità vengono colvolti gran negativi l'aurus, l'obsedomonas la clebsiella che abbiamo sentito anche stamattina prima sta diventando il secondo patogeno responsabile di questo tipo di forme e lo strafilococco meticillino resistente quindi già le condizioni del paziente la presentazione acquisita in comunità o acquisita ospedaliera ci deve cominciare a far pensare a liste diverse di agenti eziologici e poi questo lo dobbiamo incrociare con quello che abbiamo imparato cioè i pattern che abbiamo imparato a riconoscere e allora sapere che una polmonite che una volta si chiamava lobare e che adesso non è quasi mai più lobare ma dove sempre domina la consolidazione lobare o sublobare è quasi esclusivamente batterica soprattutto lo streptococco premonia e il pneumococco e quasi sempre corrisponde a una polmonite acquisita in comunità ma anche altri agenti eziologici e vedere che c'è un lobo che tende ad essere più espanso può far pensare magari di più a una clepsiella e vedere una cavitazione può far pensare a gran positivi clepsiella, aurus, anaerobi oppure la broncopolmonite la polmonite lobulare quella dove la flogosi non nasce negli alveoli e non diffonde attraverso i pori con i canali di Lambert ma è centrata sulle vie aeree con degli addensamenti più disaggregati PETCI coinvolge sia pazienti con polmonite ospedaliere che acquisite in comunità può essere dovuta di più a uno streptococco aurus a un emofilus a un micoplasma e comincia a essere coinvolto anche lo pseudomonas i gran negativi quindi una lista più ampia e che sconfina nella forma precedente anche di polmonite lobare di fronte a una polmonite che si chiamava una volta polmonite atipica le polmonite interstiziali dobbiamo cominciare a considerare magari in alcuni contesti clinici in inverno con determinati pazienti ai virus anche come responsabili possibili e specialmente per acquisite in comunità e in ambiente ospedaliero negli immunodepressi il micoplasma può dare spesso forme di questo tipo ma anche l'emofilus lo pseudomonas quindi sempre incrociare quello che è il tipo di insorgenza epidemiologica le caratteristiche cliniche del paziente con il quadro radiologico che abbiamo imparato a riconoscere ma farlo in un modo più flessibile rispetto alla schematizzazione che abbiamo imparato polmonite lobare uguale streptococco sì è vero però è vero non sempre in tutti i casi dobbiamo essere un po' più flessibili di fronte ad un pattern nodulare macronodulare è un conto soprattutto batteri forme ascessualizzanti micronodulare è un altro conto e i virus magari possono entrare in questo conto e sapere anche nei pazienti queste le caratteristiche che può avere magari un embolo settico non parlo delle infazioni micetiche perché gli muro compromessi verranno trattati in una lezione successiva quindi cominciamo a incrociare dobbiamo cominciare noi a farci degli schemi mentali che ricalchino gli schemi che poi troviamo a disposizione anche su articoli e su libri laddove incrociando le caratteristiche radiologiche con la lista che abbiamo visto essere di microorganismi responsabili e conoscendo la modalità di presentazione possiamo cominciare a dire quali possono essere in quel paziente i microorganismi più probabilmente coinvolti così come questa ce l'ha fatta vedere già Giorgia già prima quali possono essere le caratteristiche nelle polmoniti virali dove non c'è quasi mai pure alterazioni parenchimali c'è un gran glass ci possono essere micronoduli tendono ad essere polmoniti intestiziali non ci pensiamo ma alle polmoniti virali bisogna pensarci caratteristiche cliniche alcune possono essere suggestive per cui di fronte a una sindrome simile influenzale in ragazzi giovani si pensa a un tipo di polmonite mentre invece la polmonite pneumococcica si associa di più alla presentazione clinica classica della polmonite lobare che abbiamo imparato in gravidanza da una maggior suscettibilità a un occo negli alcolisti alla clebsiella e così via quindi il collega clinico l'integrazione col collega clinico diventa fondamentale la diagnosi si fa insieme né lui da solo né noi da soli quindi impariamo a farci i nostri schemi mentali incrociare quelli che sono i dati anamnestici molto spesso non solo clinici quindi anche noi li dobbiamo conoscere parlando col paziente con quelle che sono invece le specie microbiche più frequentemente coinvolte solo così riusciremo a essere utili a cercare di limitare l'uso degli antibiotici e a restringere quelle che sono le possibilità diagnostiche e quindi poter dire di fronte a quel paziente restringere il campo a 3-4 possibili patogeni già può essere che questo sia un qualcosa di molto aiuto certo quando è possibile ultima cosa il follow up ecco noi molto spesso tendiamo a fare follow up un po' troppo anticipati un po' troppo serrati mentre molto spesso i pazienti guariscono più lentamente di quanto noi ci aspettiamo cioè certe volte noi diciamo questa polmonite risolve lentamente ma è vero o siamo noi che cerchiamo di anticipare per poter dire il paziente è guarito ecco alcune forme tendono ad avere un'evoluzione clinica più lenta poi specialmente pazienti anziani noncopatici cronici mesi dopo la polmonite si vede una risoluzione radiologica completa in alcuni pazienti però in particolare in ambiente ospedaliero con polmoniti gravi se di fronte a una terapia che si pensa mirata seria non si osserva nessun miglioramento clinico addirittura un peggioramento ecco in quel caso magari un attack puoi aiutare un ATC a cercare delle cause inversamento tappi di muco embolie teniamo presente sempre che di fronte a pazienti che non rispondono a una terapia mirata possiamo o aver sbagliato diagnosi o aver sbagliato organismo oppure trovarci di fronte a una complicazione che impedisce il risolversi della patologia quindi se vogliamo cercare un po' di tirare questi fili che abbiamo sparsi o che ho lanciato per l'aula l'Rx Torace è ancora il primo esame ed è il gold standard se positivo in particolare per le polmoniti acquisite in comunità è necessario che il radiologo conosca il contesto clinico i diversi pattern di presentazione clinica le complicanze il decorso normale e patologico nella diagnosi e nel follow up bisogna sapere quali sono le caratteristiche dei pazienti con polmoniti acquisiti in comunità e quali sono le problematiche invece delle polmoniti nosocomiali e nelle strutture paranosocomiali l'ATTAC non si fa a tutti è un kit problem solving in caso di dissociazione clinico-radiologica nei pazienti in terapia intensiva critici immunodepressi di fronte a una mancata risoluzione in un paziente che peggiora o condizioni cliniche che diventano più severe e quando si sospettano complicanze nessun quadro RX e neanche TC può essere considerato di per sé patto gnomonico salvo rarissime eccezioni però il pattern prevalente che noi riusciamo a identificare grazie all'RX e alla TC insieme alla clinica possono suggerire una lista più ristretta di possibilità quanto a possibili agenti eziologici vi ringrazio per la pazienza grazie per avere grazie per aver affrontato una